L'elenco delle aberrazioni che ci hanno suggerito, delle cose che ci hanno imposto, adesso ci siamo dimenticati, ma vi ricordate quello che nuotava a largo senza mascherina, cioè sono andati col gommone a piallo, quello che correva, sono successe delle cose che adesso le rivediamo, ma non è che hanno poi smesso, ma quelle erano particolarmente assurde. Ci hanno imposto una serie di cose incredibili, seduti sì, seduti no, prima il bar lo puoi via, poi lo puoi via seduto, ma in piedi no, entri cammi a schienina, poi la rimetti, c'è il virus che sta a un metro e venti, tutto ci hanno fatto a piedi. La cosa più incredibile di tutte, che ha una grossa percentuale della popolazione, tutto ciò è stato bene, questo è il noccio della questione, non che noi si sia governati da un branco di psicopatici semideficienti al servizio di, vi fare una bla bla bla, questo lo sapevamo già, l'abbiamo visto in maniera ecratante, scioccante, ma presto a poco ce lo immaginavamo. La cosa incredibile è che a nove persone su dieci, e si parla quindi di 50 milioni di italiani, la cosa, bene o male, è andata giù, gli è stata bene. Questo ha dell'incredibile. E molti, quando vai a dirglielo, amici miei, scultori, laurea, dico ma tu ti rendi conto che cazzo? Ah no, no, io sapevo. Ecco perché lì ho parlato di speziazione antropologica, ecco perché lì la cosa è gravissima. Tu non vuoi sapere, ma se tu non vuoi sapere, non sei più un uomo. La cosa è grave come asserzione. Non dico che tu vada soppresso, non sono un egionatista, un nazista, e dico allora dovrai sterminare. Non arrivo a tanto, ma sei tu comunque che ti stai ponendo in una visione maltussiana dell'esistere. Sei tu che dici io non sono homo sapiens, sono homo che non vuoi sapere. E cazzo, è grave. Cosa ti distingue da tutto il resto? Il sapere. Se non vuoi sapere, dici che non vuoi essere più homo sapiens. Cazzo. È grossa. Per me è grossissima. È grossissima. Con la tecnologia che abbiamo, accesso al cibo, legno, alluminio, luci, led, calcos, cioè comunichiamo, facciamo, brigiamo, abbiamo in mano le armi letali della conoscenza e dell'indagare. Cosa vuol dire quella cosa di ta 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 ta, vengono a sapere tutto in tre secondi? Quando c'hai finalmente tuo accesso diretto e immediato a questa clamorosa e fluida e fruibile massa enorme di informazioni, tu dici non voglio sapere. E pretendi che loro, questa oligarchia predatoria, abbia pietà di te, se non ce l'hai tu? E' chiaro che ti si vogliono levare dal cazzo. E' chiaro che ti vogliono schiacciare. Sei una pulce. L'hai detto tu. L'hai detto tu. Cazzo. È grave. Sei tu che non vuoi avere rispetto e dignità. Te la sei negata da solo. Questo, secondo me, è la cosa più grave che si è evinta da ciò che è accaduto negli ultimi due anni. Una grande massa della popolazione mondiale, non so quanto grande, perché non so cosa accade a Mindanao, Borneo, Orinoco, Amazonia, boh, magari sono tutte pippe qui del mondo occidentale qua, per carità. Non lo so, ma anche New Zealand, Australia, non lo so, comunque il mondo occidentale. Comunque molti abitanti di questo mondo evoluto, e qui ci avrebbero così, manca due, hanno rinunciato alla loro posizione di esseri umani. E hanno voluto scientemente recedere e retrocedere a una posizione ancorché vagamente subumana. Questo è di una gravità assoluta, e non è una buona cosa, però io la vedo così.